È stata disposta per il prossimo venerdì l'autopsia sul corpo della giovane mamma nigeriana morta durante il travaglio all'ospedale della Gruccia di Montevarchi. Ad eseguirla sarà l'equip di medicina legale dell'Università di Pisa coordinata dal professor Marco Di Paolo. La procura di Arezzo vuol fare infatti piena luce sul dramma che si è consumato nella notte tra sabato e domenica all'ospedale Valdarnese quando quello che sarebbe dovuto essere un momento di gioia si è trasformato in una tragedia. La donna, 31enne, da tempo residente a Montevarchi con il marito e già madre di due figli, era arrivata al pronto soccorso accompagnata da un'ambulanza del 118. I medici si erano così preparati al parto naturale come richiesto dalla stessa giovane. Durante il travaglio però la donna era andata in arresto cardiaco. I sanitari avevano tentato di rianimarla e per salvare la bambina avevano eseguito un cesario d'urgenza. La piccola era stata poi trasportata in via precauzionale al Policlinico di Siena dove è ricoverata nel reparto di terapia intensiva neonatale. I medici per due ore avevano anche tentato di rianimare la donna che però non ce l'ha fatta. L'ASL aveva immediatamente avviato un'indagine interna e previsto un riscontro diagnostico, accertamenti sospesi con l'apertura dell'inchiesta della procura. Il fascicolo aperto dal PM Giulia Maggiore ipotizzerebbe il reato di omicidio colposo. Ieri mattina i carabinieri hanno sequestrato le cartelle cliniche all'interno dell'ospedale della Gruccia. Nei confronti di alcuni medici sarebbero inoltre arrivati avvisi di garanzia, atto dovuto per permettere di nominare consulenti di parte che possano così prender parte all'accertamento autoptico.